Domenica di festa la nuova Arena Grande Miglia dove protagonisti assoluti sono stati i bambini è infatti terminata con premiazioni, giochi e zucchero filato per tutti la Collection School il progetto a favore delle scuole del territorio promosso dal Grande Miglia coinvolti oltre 10.000 studenti di 69 scuole elementari delle province di Modena e Reggio che hanno partecipato alla gara collezionando gli scontrini degli acquisti effettuati nei punti vendita del Grande Miglia nella giornata conclusiva il centro commerciale ha quindi premiato 439 classi che hanno collezionato almeno 500 euro di scontrini consegnando un kit di materiale didattico destinato alla scuola sul palco sono poi state premiate 9 classi estratte a sorte tra quelle che hanno collezionato i valori maggiori espressi negli scontrini a loro oltre al materiale didattico il Grande Miglia ha consegnato anche device, oggetti tecnologici come pc, stampanti, tablet e la prima classe estratta ha vinto anche un videoproiettore interattivo i bambini hanno partecipato entusiasticamente raccogliendo questi scontrini facendosi aiutare anche dai familiari dai vicini di casa perché ci credevano molto ci crediamo anche noi il nostro obiettivo era proprio quello di avere del materiale utile per la scuola non avremmo mai pensato di vincere il videoproiettore interattivo non era un gioco, non è comunque un premio individuale ma un qualcosa che riguarda tutta la scuola e non solo la classe per cui c'è stata una partecipazione molto attiva ed è stato bello siamo contenti del risultato ottenuto abbiamo intrapreso un percorso verso il mondo scolastico nell'intento di offrire al mondo scolastico un supporto un risultato eclatante è un'ulteriore testimonianza della politica di grande miglia rivolta al territorio è importante soprattutto rivolgersi al territorio nei quali si è radicati partendo dalle giovani generazioni sì certo abbiamo un occhio di riguardo alle giovani generazioni perché rappresentano il futuro e abbiamo un occhio di riguardo al tema della cultura che per noi è molto importante la Collection School ha rappresentato l'evento che ha svelato in anteprima la nuova Arena Grande Miglia che animerà il centro commerciale per tutta l'estate con eventi gratuiti fino a settembre apertura il 6 giugno abbiamo realizzato questo contenitore che abbiamo chiamato Arena Grande Miglia ospiteremo 28 spettacoli in ambiti differenti dal comico, cabaret, danza, musica, cultura e abbiamo anche indetto un interessante contest sempre per ritornare al tema del territorio che coinvolgerà le giovani band emergenti in ambito musicale quindi un'altra iniziativa che noi riteniamo molto impattante e importante è un'altra iniziativa che noi riteniamo chiuderemo Grazie a tutti.